Salve a tutti raga, BiondoBlog 2 giorno numero 46 Oggi vi farò la recensione, cioè vi dirò come scaricare Gita San Andreas per Mac Questa è già la terza volta che faccio questo benedettissimo video Ehm, allora, seguitemi i posti perché ovviamente non ne posso più Sto facendo questo video da oggi, troppo, sta durando una vita Andiamo sul nostro browser, Safari Ovviamente solo per Mac, niente pc, mi dispiace pc, ma magari se è una grande richiesta Andiamo sul miticissimo Kikastorrent Andiamo nel nostro nel motore di ricerca e scriviamo Gita San Andreas Mac Ci escono due Vanno bene penso tutte e due Questo dovrebbe funzionare lo stesso Allo stesso Cosa Però io preferibilmente ho scelto il primo Andate più sicuro col primo E clicchiamo sul download store E vabbè vi metterò comunque il link nella descrizione Ora vi farò vedere come Se veramente funziona Adesso io lo faccio partire Almeno sul mio Mac Almeno sul mio Mac Per farlo partire praticamente Ed ecco il nostro cg Ed ecco il nostro cg Ok Vi faccio vedere Perchè altrimenti Perchè altrimenti mi succede un casino al Mac Cioè con ScreenFlow ScreenFlow ha qualche problemino Se appena esco Ok mi raccomando Iscrivetevi e commentate E scaricate qualche E scaricate tutto Sempre Ok ciao Ok